Mi hanno chiesto di dire perché è bello e importante leggere e io non c'ho tanto da dire, mi hanno insegnato a leggere e è come se mi avessero insegnato a nuotare e questo è la cosa che vi consiglio, è bello, è come fare il bagno nell'acqua fresca. Punto, ciao. Ciao.